La scossa è stata presieduta da un fenomeno sismico di più o meglio di minore intensità alle 2.48 di sera di giovedì, una magnitudine registrata intorno ai 2.1. Insomma anche il sindaco di Arezzo si è detta dispiaciuta e ovviamente avrebbe sentito il sisma in questione dunque la terra trema, la regione non è anche una delle più colpite ma anche in questo caso mi sento di dire la regione Toscana che vi ricordo si trova nel centro Italia insieme all'Umbria e a Remarque se non va errato. Bene, il video termina qua, se avete sentito i terremoti o il terremoto ditemelo, scrivete un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao da Reandro, narratore italiano.